Aveva fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti umani per aver subito un processo ingiusto e maltrattamenti. I giudici di Strasburgo hanno dato ora ragione ad Amanda Knox e condannato l'Italia per averle negato il diritto a un'assistenza legale, a un interprete indipendente e a un trattamento dignitoso in occasione di un interrogatorio del 6 novembre 2007, subito dopo l'omicidio, della sua ex coinquilina Meredith Kercher a Perugia per cui lei e Raffaele sollecito che se sono sempre dichiarati innocenti sono stati definitivamente assolti. È stato invece condannato a 16 anni Rudy Guede. La Corte Europea ha ritenuto che Amanda non ha beneficiato di un'indagine capace di far luce sui fatti e su ogni responsabilità anche se non ci sono prove che la ragazza americana sia stata sottoposta al trattamento inumano o degradante di cui si era lamentata. Il Tribunale inoltre ha ritenuto che il governo italiano non è riuscito a dimostrare che la restrizione dell'accesso dell'imputata a un avvocato non ha minato irrimediabilmente l'equità del procedimento nel suo insieme e che le autorità non hanno valutato il comportamento dell'interprete che si vedeva come mediatore e aveva adottato un atteggiamento moderno nei confronti di Amanda così da verificare se la sua assistenza fosse stata coerente con le garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione o se avesse avuto un impatto sull'esito del procedimento penale.